Sarà l'inedita interpretazione di Elio alle note e ai pensieri di Enzo Iannacci ad accendere il 18 giugno microfoni e amplificatori nell'anfiteatro del Parco Miralfiore in occasione di Miralteatro d'estate 2021. Un cartellone ricchissimo di 30 spettacoli compressi in due mesi e confezionati da Amat Comune Orchestra Sinfonica, Filarmonica Rossini, Ente Concerto e Teatro Accademia. Un' offerta in cui riassaporare spettacoli per tutti i gusti dopo le lunghe privazioni invernali. Sono 30 sere di festa, 30 sere di spettacolo in cui si possono attraversare le emozioni più diverse grazie ai protagonisti grandi, giovani, diversi della scena nazionale e internazionale, sicuramente con tante eccellenze insomma a partire dall'apertura che è affidata ad Elio che debutta qui in anteprima nazionale con il nuovo lavoro dedicato agli annacci per poi incrociare davvero in una ridda incredibile di proposte, di proposte di evasione, proposte di riflessione come città intelligente, grandissima musica, tantissime le proposte di musica appunto degne della città della musica quale Pesaro è e quindi direi una lunga festa in 30 appuntamenti che dal 18 di giugno fino al 19 agosto faranno del teatro del parco davvero un luogo ancora più bello e ancora più ambito anche perché si sta benissimo in quel posto lì, anche quando impazza la calura e anzi bisogna sempre portarsi una felpina in più e a parte gli scherzi appunto un teatro all'aperto che in qualche modo risarcisce la città e chi la ama e chi la frequenterà anche della lunga pausa. C'è stata una specie di disperata vitalità nel programmare e con una grande voglia di tornare appunto a fare proposte di ogni tipo non lesinando appunto davvero davvero nulla.